Amici del Chievo-Vorona, amici gialloblù, bentornati. Oggi mercoledì, primo aprile, nuova puntata di A Casa con i gialloblù. Saluto subito Daniele Partelli. Ciao Dino, buongiorno. Ciao, ciao Daniele e saluto con infinito piacere il difensore Sauli Weizanen, oggi nostro ospite. Ciao Sauli. Ciao, ciao ragazzi. Come stai, come stai Sauli? Eh, sto tranquillo a casa, come sempre in questo momento, però tranquillo, tutto bene, tutto a posto. Stai a casa da solo perché tutti i tuoi familiari, la tua compagna, anche, sono tutti in Finlandia. Sì, in questo momento sono solo qua, infatti perché è gravida la mia moglie, è andata in Finlandia a guardare come sta il piccolo e quando è stato tempo di tornare qua, è stato qualche caso di coronavirus, allora abbiamo deciso che lei rimane a casa là. Scusa, questa è una notizia, eh Daniele? Infatti, volevo dire, partiamo subito con una grande notizia, Sauli. Allora, Sauli Weizanen, sua moglie, che si chiama tua moglie, così diciamo anche il nome? Nelly. Allora, Sauli e Nelly diventeranno genitori, tra quanto, da quanto è incinta tua moglie, da quanti mesi? Sì, è in settembre, speriamo, vediamo, hanno detto settembre, però vediamo. Si sa già se sarà maschietto oppure una femmina? No, ancora non sappiamo, ma penso che tra qualche settimana sappiamo, forse, vediamo, però è così. Beh, che bel inizio, che bel inizio. Sì, sì, sì. Ma Sauli, si tifa per un maschio o per una femmina? Tanto non lo sa tua moglie, non è lì per dire la verità. No, tutti e due va bene, però se posso scegliere è certo un maschio, però no. Tutti e due, tutti e due, veniamo, veniamo. Senti, dai, faccio la domanda che facciamo a tutti, ovviamente. Come stai riuscendo ad allenarti in casa, abiti in un appartamento, anche tu hai dovuto inventare qualche strumento, qualche attrezzo per allenarti, bottiglie d'acqua, casse d'acqua, oppure riesci comunque a svolgere, insomma, un allenamento abbastanza normale? È normale, no, perché normale per noi è che andiamo fuori e corriamo dietro la palla. Però sì, qualcosa si può fare anche qua. Non è molto difficile a fare, infatti, secondo me. Basta che sposto un po' la divana, divano come si dice. Il divano, il divano. Il divano. Si può fare un po' di corsa avanti e dietro, tipo 20-25 metri, 30 secondi veloce, 10 riposo, 30 veloce, è così. E poi per fare la forza si può fare con il mio corpo e basta. Poi uso, certo, uso botteglie di acqua e calze di acqua e queste cose qua. E sì, vabbè, si sta, non è ottimale, però sono in forma comunque. Scusa, Sauli, volevo farti una domanda. Ma quando corri in casa e fai 25-30 metri, ma hai qualcuno sotto? Perché non so se magari ogni tanto senti battere. Sì, ho pensato a quello, però ancora non ho sentito niente. Allora vai tranquillo. Perfetto. Continua pure con la tua corsa. Senti, invece il tuo tempo, diciamo così, libero extra allenamenti, come lo passi? Hai qualche distrazione, qualche hobby, cucini, insomma, cosa fai? Io, per stare onesto, in questo momento parlo tanto con mia famiglia e ovviamente con mia moglie che sta a casa. Parlo con gli amici, come ora. Però io gioco tanto a play anche con amici finlandesi in questo momento. È sempre piaciuto giocare. Ora diciamo che sono fortunato che mi piace giocare, perché così passano i giorni un po' più veloci. Poi sì, cucino, provo a leggere un po' di libri e studio un po' più italiano anche. Così passano i giorni un po' più veloci, quando abbiamo qualcosa a fare, sì. Allora, dopo apriamo la parentesi, i consigli del giorno di Soli Baisanne su libri, serie tv e quant'altro. Intanto ti volevo chiedere, a cosa giochi con la PlayStation? Sei da FIFA oppure altri giochi? Sì, in questo momento sto provando un po' di giochi diversi. Io gioco anche in Formula 1 e ho iniziato a giocare un po'. Poi Fortnite, FIFA, Call of Duty, quelli quasi normali che giocano quasi tutti. Mi piace anche un po' Dead by Daylight, giochi con i miei amici e così. Senti, ma in Formula 1 prenderai mica uno dei due piloti finlandesi, Raikkonen Obotta. Sì, Raikkonen è più un legend qua in Finlandia, allora c'è lui. Sì, però è vecchio, è vecchio in questo momento. È vecchio, 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 è 60 anni, dai. Vabbè, chi mi perdona, chi? Sì, anche perché credo che abbia la mia età, quindi dovrei mettere giù in questo momento, però va bene, dai, lasciamo stare. Invece, scusami, Sauli, non mi hai detto una cosa, perché in realtà, Dino, questo lo possiamo svelare, prima che ovviamente ci fosse l'interruzione del campionato, Sauli Baisane sarebbe stato il protagonista del nuovo appuntamento di A2x2Con, eri già stato selezionato e quindi avremmo, stavamo già preparando un po' di domande, stavamo già cercando di studiare il Sauli Baisane in extra campo e abbiamo scoperto che in realtà tu hai anche una passione, insomma, che è quasi più di una passione, più un hobby, che sarebbe la musica, giusto? Ci vuoi un po' spiegare? Sì, 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 mi piace suonare un po', giocare qualcosa, sì. Abbiamo avuto un gruppo musicale, infatti, con amici in Finlandia prima, ho cantato un po', ho giocato un po' di basso, come si chiama, basso, giusto? Suoni il basso, ok? Sì, esatto, e poi un po' di batteria anche ho suonato e sì, poi ho fatto scelta giusta secondo me per diventare un calciatore. Beh, questo noi non possiamo dirlo, non ti abbiamo ancora sentito, eh? Sì, e poi i miei amici stanno continuando ancora, hanno più o meno il stesso gruppo, hanno cambiato qualche ragazzi, però sempre i miei amici, stanno, fanno abbastanza bene in questo momento in Finlandia, hanno, si chiama Pastis il gruppo e hanno qualche canzone su Spotify. Scusa? Che genere musicale suonano? E suonavi anche tu? Eh, tipo indie rock in questo momento. Perfetto, è attualissimo. Ma musica, diciamo, cover o cose vostre, scritte da voi? No, scritte da, non io ovviamente, non sono più parte del gruppo, però, sei, musica che fanno loro. Ma tu hai fatto in tempo a suonare con loro nei locali, in qualche locale, o facevate solo le prove? No, com'è, perché io sono ancora stato abbastanza giovane quando abbiamo fatto, abbiamo iniziato quando abbiamo avuto tipo dieci anni a scuola e poi abbiamo continuato fino a scuola e poi dopo liceo io sono andato a giocare a calcio e ho fatto il mio primo contratto professionista e hanno cercato nuovi ragazzi. Sì, e dopo liceo hanno iniziato a suonare anche avanti la gente, così. Allora io non ho fatto quella, sono avanti la scuola, però è qualcosa comunque. Certo, certo, bravo, bravo, bravo. Ma hai qualche strumento per tenerti un po' allenato per suonare qualcosa lì, oppure no? Scusa? Se hai una chitarra o un basso lì a casa da fare ogni tanto qualche suonata o qualcosa, no? No, in questo momento no, infatti, ho pensato di comprare qua anche a Verona, ma non ho ancora comprato. Vediamo se si riesce qualche giorno. A chitarra non so a suonare, infatti, però è più facile giocare a chitarra che a basso qua a casa. Forse batterie, però forse gente che abitano qua stessa... Se compri la batteria è garantito che... Forse batteria lì è garantito, è garantito che il vicino ti suona. Beh, quindi abbiamo, allora, seconda notizia di giornata, Sauli Weissanen, musicista per passione, per diletto e quindi insomma, diciamolo, non professionista, però si può dire musicista insomma. Guarda che noi abbiamo avuto... È un po' troppo secondo me, però... No, troppo, va bene. Abbiamo avuto, non so se lo conosci personalmente, il pata Castro che con la chitarra e non solo, anche col piano e con la voce, insomma, si dilettava a suonare e anche a coinvolgere i compagni di squadra. Quindi, non mettere freni alle tue capacità musicali, Sauli. Anzi, vabbè, vabbè. Sono ancora studiando anche musica, dai, allora ho tempo. Dopo la carriera posso iniziare anche. Allora, Daniele, cominciamo anche a rivolgere a Sauli le domande che i tifosi ci hanno inviato per lui. Ne abbiamo scelta una selezione. Ci dovrai aiutare, Sauli, perché alcune sono scritte se non in finlandese e in svedese. Quindi, anzi, Daniele, comincia pure tu con quelle in finlandese o in svedese. Ok. E Sauli ci ti dà mano. Allora, Sauli, io te la leggo così come l'hanno scritta, quindi puoi... Cioè, anzi, correggimi se dico... Vediamo che capisca. Vediamo che capisca. Io mi scuso con tutti gli amici finlandesi, veramente, ma purtroppo non l'ho studiato. Non metti limite alla tua pronuncia, è qualcosa di perfetto, dai. Grande, grande Sauli. Sì, vuole domandare che cose sono le differenze tra cultura finlandese e cultura italiana. Ok. Ma allora sono tanti, posso dire. Il primo, forse più grande, è il cibo, è ovvio. Infatto, il cibo italiano posso dire che mi piace forse un po' più, però mi manco qualche... qualche... cibo da Finlandia anche, perché noi mangiamo anche un po' di renna e tanto, tanto pesce. Pesce facciamo meglio in Finlandia che qua. Scusa se offrendo qualcuno, però... Ma però ho detto piano, piano, eh. Aia. Ma sì, mi manca anche un po' cucina finlandese, però quella è forse più grande la differenza. Poi c'è anche... Voi italiani, mi piace dire che voi fate sempre le cose domani. Perché specialmente al sud, fate sempre domani. In Finlandia siamo più ordinati, forse... non è una cosa che cosa è meglio, cosa è peggio, perché secondo me... È una differenza. Un po' più rilassati, i giorni passano così, un po' più felice, non lo so. Però... Comunque, io sono un ragazzo ordino e sono abituato a fare le cose così e... è così. Fermiamoci qua, Sauli, che non apriamo un dibattito Finlandia-Italia. Dai, fermiamoci qua. Bene così. No, scherzo. No, ma comunque io sono finlandese. Certo. Assolutamente. Vai di no. Ce n'è un'altra, ma tutto più breve. L'Icatilmedalt, tale Britmarimortai. Cosa vuol dire? Cosa ti chiede? Cosa ti dice? Quella è svedese. L'Icatilmedalt. L'Icatilmedalt è... Ah, scusa, ho cambiato a parlare svedese. Anch'io è stupido. Questa è che... In bocca al lupo con tutto. Buona fortuna con tutto. In questo momento, che è un po' più brutta, vuole dire qualche ragazzo svedese. Dire in bocca al lupo è buona fortuna. E posso dire grazie. Grazie. Allora, ci colleghiamo, Daniele, perché c'è subito un'altra domanda che si riferisce al tuo periodo calcistico svedese. Do you remember IK? Ah, certo. Of course I remember. Perfetto. No, infatti ho tanto... perché ho giocato la tre anni e tre anni bellissimi. Infatti c'è proprio cultura bellissima con questa società, secondo me. i tifosi sono belli. Chissà, forse un giorno torno là, però in questo momento sono molto felice anche qua. Però sì, ho fatto tre anni bellissimi là. Mi piace questa società. C'è qualche amici anche per la vita dalla... Sì, mi manca qualche gente anche, però mi ricordo, posso dire. Ok. perché? Invece io ti volevo... c'è una domanda che è abbastanza curiosa. Tal EvanCombi23 ti chiede, ma perché durante una partita hai perso una scarpa? Se questa ce la racconti, ce la spieghi perché non... Mi rendo la inversione calcistica. Sì, contro il Trapani penso è successo. È difficile dire perché. Forse ho sbagliato qualcosa quando ho messo la scarpa, non lo so. Difficile dire perché. È arrivata una botta e ho visto che non ho la scarpa di più. Però... In partita può succedere tutto, allora... Vabbè, ho giocato senza scarpa dieci secondi e poi continuato. Dopo ho sentito che... A giocare senza scarpa è ammunizione, però... Per fortuna l'arbitro non ho visto qualcosa. Per fortuna. Allora Fabi, non venire troppo vicino allo schermo, sennò ti perdiamo nella parte superiore del viso. Esatto. Bravo. Vado avanti con Matizocca01. Domanda molto concreta. Che macchine hai? In questo momento guido Volkswagen T-Rock. Infatti non sono mai stato un ragazzo che piace tanto le macchine e le cose queste, però... Prima ho guidato quasi sempre Volkswagen. Perché in Svezia iCup ha avuto... Volkswagen stato sponsor. Ho guidato Volkswagen Golf e queste macchine piccole. Infatti questa macchina T-Rock è la macchina più grande che ho mai avuto. Allora... Ma sì, in questo momento guido Volkswagen T-Rock. Siamo avanti che il tempo occorre. Sì. Bove Francesco vuole sapere se hai sempre fatto il difensore fin da piccolo. No, infatto. Ho quasi sempre... No. Ho iniziato come un difensore, ma poi ho fatto da dieci anni fino a quindici anni più o meno. Ho giocato centrocampista. Anche trequartista un po'. Attenzione. È difficile credere, però è vero. Poi ho visto io che non ho questo talento che si manca là. Ho detto per mister che... Ascolta, io sono un difensore. Basta fare centrocampista. E sì, in questo momento sono difensore. È giusto, secondo me. Potrebbe essere un messaggio per mister Agliini. Ma anche Valisani si propone di andare a fare il trequartista a qualche partita. Se avremmo la possibilità. La terra di Littmane. Ora, con tutto il bene che possiamo volere a Sauli. Diciamo che quelli sono trequartisti, giusto? Ah, Littmane è bellissimo giocatore. Si chiama Littman. The King of Finland, dice. Non a caso, certo. Dai, andiamo avanti. Aiz Benzotti chiede che squadra scegli a FIFA solitamente quando giochi alla Play? Io sono sempre stato tifoso di Liverpool da tempo di Sami Hüppia. Quando è stato capitano in Liverpool. Allora, anche perché hanno un po' di velocità con Mané, Salah e questi giocatori. È un buon squadra anche in FIFA. Mi piace giocare con Liverpool. Ok. Dino, direi di fare l'ultima domanda da parte dei tifosi. Toe Basta ti chiede quando hai capito di poter diventare un calciatore professionista? Io non sono mai stato un ragazzo molto talentuoso. Non sono mai stato un ragazzo che fa, tipo quando ho avuto 13, 14 anni, che fa nazionale quando iniziano e così. Dopo, più o meno, 17, 16 anni ho iniziato a pensare che chissà, forse posso fare professionista anche un giorno. E poi, dopo la scuola, ho fatto il primo contratto quando ho avuto 18 anni. L'ha iniziata una bella carriera, secondo me. Ho ancora un po' tempo di fare un po' meglio, però sì, sì, sì. 18 anni. 16, 17 ho iniziato a pensare, diciamo. Senti, Daniele, mi collego perché mi ha fatto un assist. Faccio prima questa domanda legata alla nazionale e poi, prima di salutarlo, però recuperiamo i suggerimenti di Sauli in cucina, come libri e come serie tv. Sauli, a proposito del tuo percorso, sei arrivato fino alla nazionale, avevate raggiunto con la tua nazionale finlandese un risultato storico alla qualificazione degli europei. credo che, per quanto condivisa la scelta di rimandarli all'anno prossimo, sia stata comunque, per voi soprattutto, comunque un piccolo dispiacere. Come tu, magari anche insieme ai compagni, avete vissuto questa scelta comunque giusta, obbligata, ma che magari vi ha lasciato un po' di rammarico. Sì, è una cosa brutta per noi, secondo me, comunque perché abbiamo fatto grande lavoro e prima volta in storia della Finlandia quando siamo andati là. Però, come hai detto anche tu, è una scelta giusta. Abbiamo parlato anche noi che noi non possiamo fare niente, solo allenare e poi l'anno prossimo, 20-21, diventare ancora meglio. È l'unico che possiamo pensare e fare. Io sono ancora abbastanza giovane, allora io posso diventare ancora più forte, forse, chissà. Poi c'è anche mio fratello che ha tre anni più giovane di me. Chissà, 20-21 facciamo noi la coppia centrale, chissà. Cosa vi ha detto il commissario tecnico? Vi ha mandato un messaggio, vi ha chiamato, cosa vi ha detto? Sì, lui è sempre un uomo molto positivo, il mister è molto positivo. Ha detto che, vabbè, è una cosa che noi non possiamo fare niente, allora noi possiamo solo pensare in futuro e diventiamo ancora più forti insieme e continuiamo a lavorare. È l'unica cosa che possiamo fare. Ultima, e poi l'altro spazio a Daniele e alle curiosità che dicevo prima, te lo chiedo perché, insomma, era la tua prima stagione, è la tua prima stagione al Chievo Verona. Com'è giocare in squadra, avere il spogliatoio e anche come compagno di reparto Bostian Cesar? Cioè, un difensore esperto che ha fatto una vagonata di partite in Serie A, capitano della sua nazionale, che conosce il Chievo come le sue tasche. Quanto è utile avere un giocatore, una persona come lui, per un ragazzo che arriva in una nuova squadra e che gioca nello stesso reparto? Per me è stato un... mi ha aiutato tanto, posso dire, perché ho giocato con lui e non è solo quella che lui ha giocato sempre, quasi sempre a Chievo e ha fatto una grande carriera, ma anche che è straniero lui come me. Però lui parla italiano un po' meglio di me, forse, però comunque mi ha aiutato tanto e anche a livello calcistico posso imparare tante cose da lui, perché lui ha esperienza e io ascolto cosa dice, provo a fare le cose, imparare sempre da lui e mi ha aiutato tanto, posso dire. Poi penso che... spero che anche io abbia aiutato un po', perché comunque lui inizia a stare un po' vecchio, scusa boss. Boss, non ascoltare quest'ultima parte boss. E noi che siamo un po' più giovani possiamo sempre imparare da lui, però spero che possiamo anche dare qualcosa. Vai Danilo. Insomma, giusto che ci dia. Dacci i tuoi tre consigli. Fammi aggiungere anche, perché ha detto che è bravo, anche un piatto italiano-zilandese scegli tu. Vai, questi quattro. Andiamo. Ok, ok, ok. Allora, serie TV, Piggy Blinders in questo momento, è bellissima. Mi piace tanto quella serie, infatti. Poi anche House of Cars, mi piace guardare, mi piace tanto, è piaciuto tanto. Mi piace quella serie un po' più serio e un po' più... non quelli di... Ui, scusa. Niente, niente, niente. Abbiamo perso solo. Ok? Diciamo più action che, diciamo... Sì, esatto, esatto. Piggy Blinders, House of Cars, diciamo. Poi il libro a leggere... Infatti c'è da qua una, però è finlandese, ma mi piace tanto quella. Mi piace questi libri di realità. Masagi Ishikawa. Non so come dice quella nome, però... È una storia di un uomo che ha un po' di difficoltà in Nord Corea. È ovvio che là c'è un po' di problemi. E lui vuole andare via da là, è una bellissima storia. Mi piace leggere questi libri di realità. Meno fiction e più facts, sì, esatto. E poi... Cd da ascoltare? Cd da ascoltare? Un gruppo oppure un cantante, così che proprio, insomma... Appetite for destruction, Guns N'Roses, in questo momento. Torniamo indietro, allora, dai, facciamo... Molto bene, molto bene. E chiudiamo... Piatto, allora? Scegli tu, Finlandia o Italia? Da fare, da mangiare. Sì, 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 finlandese. Come faccio io, salmone... In the oven, come si dice oven in italiano. Forno. Sì, esatto. Salmone al forno e... Con un po' di... Con un po' di mousse di patate. Tipo... Non so parole... Purè di patate, tipo? Purè di patate e poi un po' di... Insalata di pollo e se sar là vicino. Cosa facile a fare, però mi piace tanto fare quello. Va bene, dai, allora, ti salutiamo, Sauli. Sei stato gentilissimo, nostro ospite a casa con il giallo-blu. Ti chiedo... Però scusa, però scusami, prima del messaggio, siccome... Torniamo un attimo, siccome Sauli ha detto che quando suonava era anche un... Cantava anche... Io voglio fargli una prova, voglio che... Guarda, 10 secondi, 15 secondi, Sauli, non di più. Dai, dai. Dai, lasciamo a te queste 15 secondi di canzone, quello che vuoi. Vai, vai. Ok. Io canto in inglese, penso. Ascolto anche musica finlandese tanto, ma per l'inglese che qualcuno capisce anche. Short change hero, the heavy. This ain't no place for no hero, this ain't no place for no better man, this ain't no place for no hero to call home. Ta-da! Grazie, grazie. Meritatissimo. No, hai fatto bene a chiudere così la puntata. Ti chiedo solo di salutare tutti i nostri tifosi che ci seguono, ci vedono, ci ascoltano tutti i giorni sul sito internet, app e sui nostri social media ufficiali. E semplicemente chiedo anche a te di ricordare a tutti che per superare questo brutto momento bisogna però seguire le regole, restare a casa e presto torneremo a fare la vita di tutti i giorni. Sì, per i nostri tifosi noi possiamo sempre stare all'uniti in questo momento brutto e poi torniamo più forte, è l'unico che possiamo fare. Stiamo a casa e ascoltiamo i regoli perché i medici che lavorano là rischiano la vita per noi, per la nostra salute. Questo è importante, ascoltiamo cosa dicono gli ufficiali e così superiamo questo brutto momento. Grazie. Grazie mille, Sauli! Grazie a voi, grazie amici. Un saluto a Daniele, ciao Daniele! Ciao Dino, a presto! Un saluto a tutti voi e alla prossima puntata di A Casa con i Gialloblu.